eccoci qua tra la liro tra la la sono arrivati finalmente un'altra bella produzione per la distribuzione dei metal detector nocta simplex light adesso qui ce n'è qualcuno simplex bt simplex ultra tutta la nuova serie adesso qui ci ho scattolone aperto dei simplex light questi sono la evoluzione del vecchio simplex plus e praticamente hanno guardate che spettacolo hanno una bella asta telescopica migliorata alleggerita hanno specialmente specialmente hanno anche tutta la maniglia più ergonomica più ergonomica per il trasporto e sono stati qui si può anche regolare il calciolo che spettacolo e sono stati alleggeriti ancora di più più maneggevoli anche qui ci va l'asta la gangio dell'asta in seribile guardate si regola col gangetto guarda tutto telescopico tutto telescopico spettacolari sapete che io vi faccio il prezzo buono 197 euro 197 euro prezzo speciale e il bello è che vi arriva direttamente dalla distribuzione per avere la migliore assistenza diretta tecnici qualificati distribuzione ottima e qua c'è il manualetto e poi è corredato anche del cavetto il simplex light del cavetto adattatore per la cuffia a fili e del cavetto di alimentazione che dopo lo collegate a una presa carichino del cellulare usb o alla presa usb del computer che dopo fa la carica si ricorda di caricarlo sempre prima di andare in giro meglio tenete meglio ma non tenete le batterie e più vi durano adesso vi faccio vedere anche la nuova bobinetta che con questa configurazione qui uno che non gli interessa alla cuffia senza fili in quanto il simplex light non ha il wireless ma con questa configurazione qui e questa bella bobinetta qui che è piccola ma non troppo grande ma non troppo è giusta è la misura giusta guardate che spettacolo questo metallo del tettolino qui è talmente leggero talmente maneggevole e poi guardate i due o tre video che ho fatto di prestazioni prestazioni al banco anche una generosa una bella potenza di rilevazione è un gioiellino 197 euro due sono già venduti di questi tre di questa serie simplex due sono già venduti ne ho rimasto uno poi ho anche i bt e gli ultra pronta consegna contattatemi che al sito metal detector 24.com potete fare l'ordinazione se vi interessa il bt simplex bt e simplex ultra vi faccio un po' di sconto e vi dico da mia esperienza trentennale di vendita metal detector questi bellissimi simplex sono dei gioiellini subacquei anche a 5 metri meglio stabilizzati anche in batteggi in mare sono di gioiellini provateli